una dialettata vostra dai che cosa ha detto? che cosa ha detto? mi sento male mi sento un dente dove? ah chi è indiano? chi? qua qua tu guardi solo questo è il premio per l'ultimo ah premio da una moda decidi te o l'ultimo o il più bello o quello che vuoi bello o il più brutto ok e corona non perdona? perfetto la macchina no la macchina non va c'è il pilota che non va non va ormai pillole di guida by indiano moda guarda devo calburarla il motor? come va il motor? va bene però non sono calburato bene e la macchina come va? la macchina va sempre bene assetto zanella ha scattato tocca indiano moda ecco motore bp gomme quelle che saranno in cappetta è la prima hai recuperato un piu che fa incredibile ma vero l'indiano soffia la macchinetta e corona copia e una jq non va non va non sai di chi è? indiano sei bellissimo, ma è arrivato uno più bello di te il gallinace ma che buona oh ma gli hai avuto una patata a Zanea? grazie indiano modus numero uno no voglio più indiano modus, grande indiano modus patate indiano queste, le vuoi? no no vuoi il galletto indiano? sono estratto dall'anno dell'indiano senti ma quella domanda lì che facevi sul sito di indiano è un tuo dipendente quella domanda che facevi il tempo dietro è un tuo dipendente indiano scusi stiamo facendo un'intervista è stato a facere grazie volevo dire quando ci chiedevi il sito di indiana cos'è una grazie a tutti Allora, per l'ultimo della finale BF2, no? C'è praticamente un premio, un favoloso premio, offerto da Zanella. No, Zanamoder. Dov'è Zanella? Zanamoder. Zanamoder, esatto. Il premio se lo giudica Carniel Christian. Bravo! Ma come, no? L'indiano stavolta. Di solito è sempre lui. Bravo! Bravo! Settimo, indiano. Il bognino! Bravo! Dove sei? Perché non ho basato. Posso me ne fare subito questa? No, non so la stella, non so la stella. No, vai! Vai! bravi indiano